Il rapporto tra l'opinione pubblica e i temi riguardanti l'immigrazione è certamente quello più delicato anche per prendere delle decisioni concrete. Per questo un corso rivolto ai giornalisti, agli operatori dell'informazione, che riguardi questa delicatezza di rapporto, innanzitutto informando su quali sono le procedure, le leggi e poi su quelli che sono i concetti che presiedono anche alle grandi decisioni politiche, a mio giudizio è una delle iniziative più interessanti che possono essere fatte in questo momento.